Abbiamo visto che cosa succede nei suoli e abbiamo concluso che nei suoli nella sostanza non si può trascurare il bilancio di massa, almeno per la seconda fase. Come poi questo si ottenga, la riduzione dell'evaporazione nella secondo stage evaporation può essere fonte di varie interpretazioni modellistiche, però io ve ne ho mostrata una. Guardiamo adesso che cosa succede rispetto a quanto vi ho mostrato nel caso della traspirazione. Quelli che vedete qui rappresentati sono degli stomi in una foto molto particolare. che si intitola Show Me the Carbon. Lo scopo finale ovviamente è quello di capire se noi possiamo applicare le soluzioni che abbiamo ottenuto, che sono così interessanti, attraverso l'idea di Penman per anche la traspirazione delle piante. Cosa fanno le piante? Beh, le piante ricevono luce, che qui è segnato come questo gamma, anidride carbonica, acqua, azoto, fosforo e tracce di altri minerali e mandano indietro ossigeno e carboidrati. Tutto di quello di cui noi abbiamo bisogno per sopravvivere, per vivere. E questa operazione si chiama fotosintesi. Io non entro nel dettaglio di questa operazione. Vi rimarco solo che la fotosintesi richiede per realizzarsi la contemporanea presenza di anidride carbonica e acqua. Questo nei libri di testo talvolta viene interpretato dicendo che la traspirazione è un fenomeno di risulta, per così dire, della fotosintesi. In realtà non può essere così, perché se non ci fosse trasporto di acqua attraverso le piante, non ci sarebbe, mancherebbero degli ingredienti fondamentali, cioè l'acqua è un ingrediente fondamentale per produrre ossigeno. E poi l'idrogeno dell'acqua viene comunque utilizzato all'interno delle piante insieme all'anidride carbonica. Non solo, ma anche il meccanismo di trasporto che si viene a generare attraverso la traspirazione è proprio quello che porta l'acqua alle foglie, che sono il laboratorio chimico dove i carboidrati vengono prodotti. Quindi l'acqua e la traspirazione sono parte integrante della fotosintesi esattamente e non sono dei prodotti di risulta. Come avviene la traspirazione allora? Beh, noi abbiamo una foglia, qui se vogliamo il disegno non è corretto perché le foglie normalmente hanno gli stomi sulla parte inferiore, ma il concetto va ben spiegato anche qui. Noi sopra la foglia abbiamo un flusso turbolento. Il trasporto di vapore nel flusso turbolento è ben descritto dalla legge di Dalton. Ma come vedete nel grafico che sta sotto la foglia, vicino alla foglia c'è un flusso laminare, dove l'aumento delle velocità è lineare piuttosto che logaritmico e quindi ho un layer che si chiama layer viscoso in cui succedono delle altre cose. Come porto la mia umidità dal suolo dove le piante lo prendono fino a questo stato intermedio? Se io capisco come questo succede, capisco anche come calcolare l'evaporazione. In particolare è interessante osservare che la legge di Dalton vale dove c'è il profilo logaritmico e qualcos'altro deve valere al di sotto, diciamo, dello strato viscoso. Beh, cominciamo a guardare come è fatta una foglia e la prima cosa, tra l'altro, che ci viene da osservare è che è esattamente come nei suoli, nel secondo stage evaporation, all'interno delle foglie il vapore si muove in corrispondenza della legge di Fick. Questo tipo di foglia è una foglia di quelle normali che ha, chiamiamola così, che ha gli stomi solo sulla faccia inferiore e quindi il vapore, la CO2 entra e il vapore d'acqua esce dalla parte inferiore delle foglie. Poi il processo che avviene all'interno è essenzialmente un processo di diffusione che ha vari momenti perché può avvenire sia tra le cellule che attraverso alcuni particolari condotti e così via. La prima cosa di cui però ci dobbiamo occupare è come il vapore passa attraverso gli stomi che sono l'ultimo elemento di controllo appunto sul vapore che viene prodotto all'interno delle piante. Se vale la legge di Fick, il flusso di vapore che arriva fino agli stomi e qui ho chiamato J con I, può essere espresso come il coefficiente di diffusione del vapore nell'aria, D con J, che dipenderà per esempio dalla temperatura, per il gradiente della concentrazione di vapore relativamente ad una certa coordinata Z ortogonale alla superficie della foglia. Questa si può approssimare alle differenze finite dicendo che la derivata, il gradiente delle concentrazioni si può approssimare come la variazione di concentrazione diviso lo spessore del boundary layer. Boundary layer, vi ricordo, era quello che qui avevo rappresentato come avevo chiamato viscous layer. e questo a sua volta si può scrivere come una leaf conductance, G con J per una variazione appunto delle concentrazioni delta DCJ dove evidentemente ho definito GJ come come il rapporto fra il coefficiente di diffusione di vapore e lo spessore del layer, del boundary layer. A volte invece di GJ si definisce il suo inverso, cioè un RJ che si chiama, se GJ era una conduttanza, una resistenza. Quello che dunque osserviamo è che il trasporto di vapore all'interno delle nostre foglie, o almeno fino alle foglie, si può rappresentare con una legge che è molto simile alla legge di Dalton che è JI uguale a GJ per delta CJ è formalmente uguale alla legge di Dalton una volta che noi abbiamo dato un'interpretazione alle concentrazioni e soprattutto se pensiamo che le concentrazioni del vapore possono essere trattate come in un gas ideale che quindi posso correlarle per esempio alle pressioni parziali come avevo fatto in precedenza. E se osservate sotto, la legge sotto, ho riportato la legge di Dalton e la legge di Dalton compariva la conduttanza C per la velocità U se assorbo la velocità U in C e definisco un G cappello le due equazioni sono esattamente uguali. Questo non è secondario perché se facciamo, cambiamo quello che va cambiato e trascuriamo per il momento quello che succede nello strato turbolento al di fuori dello strato viscoso noi possiamo sostituire l'equazione in alto GJ per delta CJ al posto dell'equazione di Dalton nella derivazione che abbiamo fatto prima dell'equazione di Pema-Monteith e non cambia assolutamente nulla se non quel coefficiente GJ che però sarà diverso. Rimane il problema di accoppiare questo fatto che all'interno del boundary layer della foglia che io qui ho disegnato in giallo vale una legge che vale la legge di Fick e fuori vale la legge di Dalton che sono formalmente simili. Quello che si fa di solito è quello di assumere che queste si usa un modello analogico analogico rispetto allo scorrimento delle correnti elettriche e si dice che in questo caso abbiamo due resistenze in serie e le resistenze in serie si sommano quindi posso considerare valida di nuovo in serie una legge simile a quella di Dalton o una legge simile a quella di Fick però che le comprende entrambe e il modo con cui queste leggi sono messe insieme è sommando le resistenze quindi sotto io sommo la resistenza Rj dovuta alla legge di Fick che è uguale a che cosa? È uguale a D diviso lo spessore del boundary layer più Ra che invece è la resistenza aerodinamica che avevamo calcolato in precedenza che è quello che poi scrivo in questa slide questo è che il fatto che si possano sommare le resistenze in questo modo andrebbe un minimo verificato ma per il momento noi lo accettiamo come veritiero detto questo noi abbiamo una ricetta per trattare l'evaporazione all'interno delle piante quello che succede attraverso la pianta in realtà è un processo molto complesso perché la pianta prende l'acqua dalle radici la trasferisce lungo il tronco e poi la libera attraverso l'evaporazione nelle foglie come sono fatte le resistenze attraverso tutto questo sistema? Beh, le resistenze attraverso tutto questo sistema in genere si sommano però la cosa straordinaria è che la resistenza il 95% della resistenza in questa prospettiva all'evaporazione è legata alla resistenza che l'acqua incontra all'interno delle foglie mentre la struttura fisiologica interna delle piante è tale per cui la resistenza permane su tutto uguale più o meno su tutto il tronco e non c'è quindi differenza di resistenza per esempio su impiante alte 5 cm e impiante alte 150 metri questo è un dettaglio di quello che succede nelle piante come vedete il sistema vascolare che porta l'acqua dal suolo alle foglie si chiama xylema c'è anche un sistema vascolare che va nella direzione opposta che si chiama floema questo xylema e questo floema il floema è quello che porta poi dalle foglie alle radici i nutrienti che vengono prodotti della radici o comunque in giro per la pianta che servono a costruire la pianta durante il tempo l'oxylema non è un sistema vascolare propriamente come quello che ci sono per esempio che abbiamo noi è un sistema costituito da tubi di varia dimensione e forma che sono da cellule morte connesse in un modo molto complicato che varia il suo diametro la sua resistenza il suo diametro complessivo essendo più grande verso il basso è più piccolo ovviamente all'interno delle foglie passa da 500 micrometri anche le radici effettivamente hanno un xylema piuttosto piuttosto piccolo dell'ordine come vedete qui di 500 micrometri mentre nell'ordine delle foglie sono di 100 micrometri le piante qui vediamo rappresentate delle sequoie non hanno un cuore per pompare l'acqua come noi pompiamo il sangue e com'è quindi che l'acqua si muove dalle radici alle foglie? beh nel corso della loro evoluzione le piante hanno sviluppato un sistema molto particolare in particolare tutto nasce dal fatto che il potenziale chimico del vapore in atmosfera è molto più piccolo del potenziale chimico dell'acqua nel suolo questa è questa differenza di potenziale che fa sì che l'acqua venga letteralmente tirata fuori dal suolo attraverso tutto il sistema del xylema e delle foglie e la teoria che lo descrive si chiama cohesion tension theory sulla quale torniamo fra poco per esempio questo è un esempio di una pianta di mais e l'atomosfera qui è riportata in bar ci sono meno 500 bass mentre all'interno del suolo più o meno siamo nell'ordine di meno 10 bar se proprio vogliamo e nelle foglie ci sono si genera una pressione sempre negativa di meno 30 bar o se volete al posto di bar sostituite ectopascal c'è nella mia spiegazione quello che io ho posto in evidenza appunto è la differenza di pressione se c'è una differenza di potenziale chimico che noi misuriamo come differenza di pressione fra l'atomosfera e le radici questa differenza di pressione muove l'acqua ci sono un po' di problematiche da risolvere però e non è normalmente il modo in cui questo compare nei libri di testo o neanche quelli di fisiologia delle piante in cui pure tutti questi elementi sono conosciuti con grande dettaglio di solito anche nei libri di fisiologia delle piante o dei libri di termodinamica che ha a che fare con la fisiologia delle piante e quello che si dice è beh, la risalita dell'acqua nelle piante è spiegata della capillarità ma se noi dovessimo creare avere dei capillari così piccoli per tirare l'acqua su 150 metri noi dovremmo avere dei capillari grandi nanometri mentre la dimensione certo ci sono interstizi nelle foglie che hanno queste dimensioni nanometri vuol dire 10 atomi ma normalmente anche gli stomi hanno dimensioni micrometriche e quindi di per sé la capillarità non spiega questo tipo di fenomeni e proprio deve essere spiegata proprio in modo dinamico c'è una domanda della atmosfera si innesca certo c'è la capillarità che agisce all'interno dell'oxilema c'è anche l'oxilema tra l'altro non contiene granché soluti quindi le forze osmotiche almeno nella parte dell'oxilema sono relativamente modeste e quindi e quindi si instaura questo tipo di moto l'altro problema è che queste energie sono queste e queste pressioni sono pressioni negative e sono molto inferiori alla tensione di vapore quindi in una interpretazione del moto del del sistema del moto dell'acqua attraverso l'oxilema quello che viene in mente è che l'acqua nell'oxilema dovrebbe cavitare si dovrebbero formare delle bolle e la traspirazione dovrebbe fermarsi invece le piante nel corso della loro evoluzione hanno sviluppato dei sistemi per contrastare la cavitazione qui vedete la pressione misurata in varie parti dell'oxilema e come vedete in alcuni casi si raggiungono meno 80 atmosfere sono delle quantità negative assolutamente basse assolutamente straordinariamente inferiori della 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 capacità della tensione di vapore e quindi tutto dovrebbe cavitare dentro le piante e questo non succede e ci sono quindi degli aspetti che vanno ancora e che sono oggetto della ricerca corrente su questi temi abbiamo detto però e vi dovete fidare perché queste conoscenze derivano anche da una base sperimentale piuttosto solida che la maggior parte della resistenza al moto dell'acqua è legata da una parte in realtà alla resistenza che si trova ad entrare nelle radici e dall'altra la resistenza che si trova che trova il vapore ad uscire dagli stomi questo e dobbiamo quindi capire bene che cosa succede negli stomi questa slide altro non fa che dire che certo nell'oxilema l'acqua si trova in uno stato metastabile si dice cioè non sarebbe lo stato in cui si dovrebbe trovare se noi guardassimo semplicemente il diagramma a pressioni e temperature che ci dice per una determinata pressione per una determinata temperatura qual è lo stato prevalente nel nostro caso dell'acqua nel caso delle pressioni che misuriamo all'interno dell'oxilema queste pressioni dovremmo trovare solo del vapore la nostra chiave è determinare questo gg e come facciamo a determinare questo gg beh ci sono due tipi di teorie che dal punto di vista pratico sono state sviluppate una è dovuta a Balberry e Leuning ha un fondamento sperimentale la prima formula che vedete in alto e poi entrambe ve le dettaglio e l'altra invece è dovuta a Jarvis la prima ha a che fare prevalentemente con la fotosintesi il processo di fotosintesi le seconde fanno riferimento a fattori limitanti o comunque le forzanti atmosferiche che che agiscono che agiscono nel limitare appunto il la conduttura limitare o incrementare la conduttanza le ho chiamate g e gs qui ma sono sempre la gg di prima g e gs perché nella letteratura dal quale queste resistenze sono derivate questa era la questa era la la formula e andiamo a vedere com'è fatta la leaf conductance la conduttanza fogliare nel caso di ballberry beh questa è uguale a un certo g0 minimo e al numeratore abbiamo un coefficiente per la l'assimilazione di co2 netta da parte della foglia e al denominatore abbiamo la concentrazione della co2 sulle foglie sottratta di un certo valore di riferimento che è chiamato co2 compensation point moltiplicato per un secondo termine che contiene dei fattori dei fattori di deficit legati alla tensione di vapore alla pressione che ha il vapore all'interno delle foglie per quanto riguarda invece la teoria di Jarvis e tutta la famiglia di teorie che nascono da Jarvis la conduttanza espressa secondo una massima conduttanza della foglia che è chiamata Gmax per un fattore che contiene che dipende dalla radiazione cioè le piante sappiamo la fotosintesi avviene prevalentemente nelle piante terrestri attorno a due temperature prevalenti una attorno ai 25 gradi sono le piante che funzionano bene nelle zone temperate ed una attorno ai 35 gradi che sono le piante che funzionano bene nelle zone tropicali queste corrispondono a due modi di fare la fotosintesi che sono chiamate C3 e C4 fosforilations e quindi entrambe queste hanno quello che vi ho detto in realtà che dipende dalla temperatura ma dipende anche dalla quantità di radiazione che il sistema riceve dipende dalla temperatura come vi ho appena detto dipende dal deficit di pressione da quel delta delta e z che avevo scritto prima nella formula di Pema-Montif e dipende dipende dalla CO2 di concentrazione e dipende dal potenziale idrico che c'è all'interno della foglia quindi sono cinque fattori compresi fra 0 e 1 che riducono il Gmax effettivamente questi fattori di riduzione come se fossero completamente indipendenti gli uni dagli altri sarebbe un guaio perché se voi moltiplicate cinque numeri minori di uno tra di loro ottenete subito quasi sempre un numero molto piccolo e questo ridurrebbe in ridurrebbe troppo la 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 conduttanza o aumenterebbe molto la resistenza in questo caso degli stomi e quindi come trattare in realtà questi questo insieme di questi fattori limitanti è un'arte a sé che poi magari noi praticheremo quando andremo a fare le nostre esercitazioni per darvi un'idea di come sono fatte queste funzioni f vedete rappresentata a sinistra quella che ha a che fare con la temperatura in centro quella che ha a che fare con la con la radiazione che cresce fino a che la radiazione cresce qui la radiazione è misurata in micromoli in metri quadri al secondo perché si usa questa di misurare la radiazione in moli quando si tratta di di fotosintesi e mentre la terza rappresenta la variazione in questo coefficiente con il vapor pressure deficit una cosa interessante che si nota qui è che più grande il deficit atmosferico in realtà più aumenta più aumenta la resistenza o più diminuisce la conduttanza mentre se vi ricordate nella formula di Pemma-Montiz c'è un termine lineare a secondo membro nel deficit nel vapor pressure deficit questo si spiega con il fatto che quando il deficit aumenta molto questo significa che praticamente c'è aridità nell'atomosfera e la pianta previene questo chiudendo gli stomi ed evitando quindi che ci sia un dispendio troppo grande di acqua superiore alla capacità che potrebbe supportare è ovvio che questi temi sono tutti temi molto interessanti che andrebbero approfonditi ulteriormente io immagino che voi lo facciate nel corso di ecologia che fate in contemporanea a idrologia e io intanto mi fermo qui però su questo tema ci sono delle domande sì c'è effettivamente una domanda ce ne sono due una domanda che mi chiede sì professore allora perché cosa useremo queste equazioni però non so quali equazioni si riferisca e quindi deve essere più specifica chi mi ha fatto la domanda deve essere più specifico o specifica scusi professore non capisco perché le pressioni all'interno delle piante sono negative beh l'idea che le pressioni siano negative vediamo ok qui le pressioni sono negative perché noi le misuriamo intanto non sono che noi le riconosciamo come pressioni è una nostra deformazione perché gli strumenti di misura che noi utilizziamo per rappresentare i gradienti di forze che che vengono che si manifestano sono basati sulla sulla pressione e quindi noi le interpretiamo come pressioni in realtà come vi ho cercato di fare di farvi presente nelle lezioni nella lezione in cui vi ho parlato della capillarità dei suoli peraltro l'idea è che in realtà si tratti di differenze di potenziale chimico e queste sono negative perché se noi le misurassimo magari cambio cambio apro la la apro la lavagna bianca ok intanto mi è arrivata ok l'equazione di Pemmo-Montiz poi ne parlo dopo allora intanto parliamo delle pressioni negative e quello che vado a condividere adesso è questo qua ok perfetto pressioni negative beh le pressioni negative e se voi vi ricordate quello che avevamo detto quando avevamo detto avevamo parlato dei suoli l'idea era che noi avevamo un potenziale chimico che è uguale a un potenziale di riferimento meno un termine che è RT il logaritmo del rapporto fra due concentrazioni C e C con 0 adesso non mi ricordo come le avevo chiamate per eventualmente le avevo parlato di attività in quel sistema attività rispetto a attività di riferimento questo termine è positivo oppure questo termine è positivo e questi fattori sono minori di 1 quindi tutto questo diventa un'espressione negativa dal punto di vista sperimentale è quello che noi abbiamo l'esempio della capillarità che cosa succede? Nell'esempio della capillarità noi abbiamo un noi abbiamo dell'acqua indisturbata anzi tiriamo via per il momento questi due elementi ok qual è la pressione dell'acqua qui sulla superficie la pressione dell'acqua qui sulla superficie è 0 relativamente all'atmosfera perché misuro la pressione in relativo cosa succede se io metto dentro un capillare all'interno di questa acqua quello che succede è che l'acqua in parte risale lungo il capillare e si dispone per esempio così allora noi adesso risolviamo un problema semplice qui la pressione è 0 tra questo punto e questo punto in condizioni idrostatiche che differenza tra il punto A e il punto B che differenza di pressione c'è? beh se la distanza tra il punto A e il punto B è H io so che è Rho dell'acqua G che è la costante di gravità per H è la prima pressione idrostatica quindi questa quantità di acqua che adesso vado a segnare con colore diverso questa quantità di acqua qua mi crea sul punto B una pressione idrostatica aggiuntiva che era oggi H quindi la pressione del punto B è uguale alla pressione incognita X che io ho in A più Rho G H ma la pressione che io ho in B è uguale a 0 quindi ho che X con A la pressione in A è uguale a meno Rho G H se volete qua Rho W G H quindi le forze di capillarità si manifestano come pressioni negative e questo è il senso che noi diamo a pressioni negative dopodiché questo lo possiamo valutare come abbiamo fatto come attraverso il calcolo delle del potenziale chimico però l'idea è appunto che ci sono molte condizioni in cui il sistema si comporta come se ci fossero delle pressioni negative in particolare all'interno delle piante del nostro sistema vascolare qui pensiamo come un insieme di tubi magari sempre più sottili e più sottili qua nelle foglie è la pressione negativa che abbiamo nei suoli quant'è la pressione negativa attorno ai suoli sarà attorno diciamo tra meno 1 e meno 10 ectopascal meno 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 10 atmosfere la pressione che abbiamo qui in atomosfera dovremmo andare a considerare il potenziale chimico in questo caso per arrivare al calcolo delle pressioni ma abbiamo visto da prima potrebbe essere una stima ragionevole meno 500 ectopascal all'interno dei tubi in cui avviene allora qui siamo d'accordo che abbiamo pressioni negative qui in atomosfera abbiamo pressioni negative molto negative qui abbiamo pressioni pure negative ma in atomosfera sono maggiormente negative e ho un flusso di acqua da qua verso l'alto lungo naturalmente l'oxilema alla base sono negative all'apice sono negative internamente si possono si possono anche misurare con altri strumenti sono pure negative nella slide che le avevo mostrato prima del mais all'interno qui dentro si dice e anche nelle varie slide si dice che qui dentro l'ordine di grandezza delle pressioni può essere di tra meno 10 megapascal megapascal e questo è meno 500 e questo è 50 megapascal quindi 50 500 hectopascal sono 10 megapascal sì 500 500 hectopascal sono 50 megapascal quindi all'interno delle piante c'è una pressione negativa di quest'ordine di grandezza qua è l'interpretazione che è il modo in cui le misuriamo che ci dicono che sono pressioni negative in realtà sono forze cioè noi osserviamo delle forze che muovono l'acqua da una parte all'altra queste forze si riferiscono e possiamo far riferire a queste misure che poi attribuiamo a pressioni negative il modo in cui le attribuiamo a pressioni negative è simile a questo in cui io ho disegnato un sistema semplice spero di averla risposto in maniera sufficiente per quanto riguarda le equazioni Pema-Montith le equazioni Pema-Montith sono le equazioni che noi useremo per calcolare l'evaporazione quello che io vi ho fatto useremo per calcolare l'evaporazione in che modo per i suoli per i suoli useremo una formulazione semplificata e non quella che vi ho presentato io per le piante per le piante useremo Pema-Montith dove al posto della conduttanza C noi andremo a sostituire una conduttanza C cappello che è uguale a 1 diviso il G G che ho chiamato GJ più un GA dove GA è la mia no scusate adesso qui mi faccio trascinare a volte questo sarebbe se lo voglio scrivere in termini di G questo è 1 diviso GJ e questo è 1 diviso GA dove GA è sarebbe K quadro diviso logaritmo di al quadrato di Z meno Z zero diviso Z con D no questa è la resistenza GA alla meno 1 ok questa è la resistenza aerodinamica quindi nel caso della traspirazione delle piante uso sempre Pemma Montif in realtà nella formulazione che abbiamo appena fatto quella di Schimansky e Dor utilizzando però una resistenza in più e spero di avere risposto alla domanda che mi è stata fatta le cose che vi ho presentato sì ok